Il mio primo amore era meno di niente, il secondo era peggio, ero una calamita per gli scansafatici, il raggio di 50 miglia sta tranquillo che lo attiravo io, così finii qua, seguendo lo scansafatiche numero 3 e mi sono ritrovata senza soldi né amici né scansafatiche. E se li sti questa come professione? Ho lavorato in un paio di fast food e al parcheggio dello stadio, non ci pagavo l'affitto, tornare a casa troppo a vergogna, poi con un piquit faceva la puttana, ne diceva meraviglie, così un giorno lo feci anch'io e piansi tutto il tempo, poi ho trovato dei clienti fissi, sai non è fra i progetti per l'avvenire, non è il tuo sogno di bambina. Beh, esiste di meglio. Ti sviliscono a tal punto che finisci per crederci. Io trovo che tu sei una donna intelligente e particolare. È molto più facile credere alle cattiverie. Ci hai mai fatto caso? Io. Sì, signore. Vai a fotocopiarle? No, adesso. No, adesso. No, adesso.